A Pescara sono già in corso le assegnazioni degli alloggi sgomberati ieri da polizia e vigili al ferro di cavallo nel quartiere Rancitelli. Proprio di questo ne parliamo con il nostro Luca Pompei collegato in diretta social con noi. Luca buongiorno a te. Un saluto a tutti gli amici telespettatori. Sì, proprio nella giornata di ieri polizia e polizia municipale hanno provveduto a sgomberare ben 5 alloggi nel rinomato complesso del ferro di cavallo nel quartiere Rancitelli. Ci sono stati anche momenti di tensione. In alcuni casi è stato necessario l'intervento delle motoscale per sgomberare gli arredi. L'assessore Isabella Del Trecco tutta la mattina, l'avremmo voluta intervistare, ma tutta la mattina è stata impegnata con le nuove assegnazioni per quanto riguarda questi alloggi a nuclei familiari che ne hanno diritto. È soltanto una prima tranche, ci ha detto, di sfratti. Nei prossimi giorni ne seguiranno altri. Questa è una piaga che va ormai avanti da tantissimo tempo. Anna, di famiglie che occupano gli alloggi senza averne diritto, tra l'altro senza averne neanche necessità, perché comunque si tratta di nuclei familiari che utilizzano questi alloggi per attività illecite come lo spaccio, ad esempio. In questo senso l'amministrazione comunale, ha detto il sindaco Masci, è irreprensibile. Ci saranno ulteriori sfratti nei prossimi giorni. E' altra notizia che 30 nuclei familiari sono già stati sistemati in altri alloggi, perché sono già partite, Anna, le procedure per la demolizione del ferro di cavallo. Stiamo parlando degli edifici che ridanno su Via Sacco in particolar modo. Questa demolizione dovrebbe avvenire nel giro di un anno, quindi dovrebbe finalmente ripartire l'intera riqualificazione di quell'area periferica della città di Pescara. A te, Anna.